ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di bullet journal con me oggi faremo un piccolo planner insieme ho cercato di creare un'atmosfera autunnale accendendo una candela e portando anche delle castagne da mangiare come prima cosa ho ritagliato questa carta marrone del blocchetto di tiger da mettere agli angoli della pagina con l'evidenziatore ho tracciato poi tre linee spesse che sono quelle di tre giorni della settimana ho scritto poi i nomi con la penna gel pentelenergel adoro tantissimo questa penna e viene dal sito stationerypal per cui è valido ancora il codice sconto juju ora vado a mettere un piccolo adesivo poi ne sceglierò altri dopo mi sono messa a scrivere lettering sul cartoncino solo che non è stata una buonissima idea perché alla fine non aderiva completamente la pagina e quindi è un po sollevato però comunque abbastanza autunnale come risultato ho scritto autun vibes c'è un po sollevato passiamo su ho alternato gli adesivi sull'autunno a quelli del caffè, super carini e poi ho aggiunto alcune decorazioni ed eccoci qui, pagina conclusa molto semplice, veloce spero vi sia piaciuto spero sia stato anche abbastanza rilassante iscrivetevi al canale ci vediamo con il prossimo video ciao